Ciao a tutti, io sono Manuela e io sono Tonia e stiamo facendo questo video perché ci sentiamo vittime di un'ingiustizia da parte del comune di Ischia in quanto con la nostra associazione SD Daminga Agenzi Ischia abbiamo deciso l'anno scorso di fare richiesta per la concessione di alcune corsie nella piscina comunale di Ischia. Con la nostra associazione ci occupiamo di varie attività, dalla subacqua al nuoto, atletica leggera, io lavoro in ambito sportivo come istruttrice da oltre 20 anni e vi metteremo i link di tutte le didattiche di cui siamo istruttori e siamo affiliati, le troverete qui in descrizione. Quando abbiamo deciso di fare la richiesta l'anno scorso, era il mese di marzo, abbiamo avuto molta difficoltà a trovare i documenti se volete vi mettiamo il link alle schermate del comune su cui potete provare a farlo ma abbiamo avuto veramente molta molta difficoltà, alla fine siamo riusciti ad ottenere alcuni documenti dovendo andare di persona al comune, dovendo chiedere delle delibere specifiche che non si aprivano dal sito e siamo riusciti a recuperare questi pochissimi documenti che risalgono a 2003. Siamo riusciti a fare la domanda il 16 aprile del 2019. Da quella data non abbiamo ancora ottenuto nessuna risposta, abbiamo iniziato a chiamare personalmente il comune da fine agosto la risposta del responsabile agli impianti sportivi o da chi ne faceva le peci nel suo ufficio era sempre che la piscina non poteva aprire e di richiamare tra dieci giorni richiamare tra dieci giorni, richiamare tra dieci giorni dal 16 aprile siamo arrivati così a metà dicembre quando invece c'è stato risposto che non ci potevano dire nulla riguardo a quello che stavano facendo per dare in assegnazione queste corsie non potevano darci risposta al che abbiamo fatto un'altra richiesta ufficiale di appuntamento per sapere ufficialmente cosa si stava facendo per dare queste corsie in concessione anche lì ancora non abbiamo avuto risposta siamo riuscite a incontrare il sindaco in quei giorni che ci ha detto, che ci ha garantito, che ci avrebbero chiamato e che avrebbe cercato di accontentare tutti ma indipendentemente dal fatto che ci accontentassero o no noi vorremmo una risposta ufficiale da parte del comune ci troviamo adesso ad aver letto sui giornali qualche giorno fa che la piscina ha riaperto sempre senza avere nessuna comunicazione ufficiale prima di continuare vi chiedo se vi è piaciuto questo video se l'avete trovato utile di mettere mi piace di iscrivervi al canale youtube e al canale instagram della nostra associazione e di mettere mi piace anche alla pagina facebook a questo punto non avendo ottenuto nessuna risposta abbiamo cercato almeno la graduatoria delle varie associazioni secondo quanto dovrebbe essere fatto secondo il regolamento scritto dal comune d'Ischia deliberato dal comune d'Ischia e fra i vari documenti non troviamo nessuna graduatoria nessuna delibera in merito all'assegnazione degli spazi quindi siamo certi che c'è qualcosa di molto strano sicuramente non trasparente nell'assegnazione degli spazi della piscina finora mi sono riferita ai vari uffici che non hanno funzionato in particolare a quello responsabile degli impianti sportivi però negli uffici ci sono delle persone e secondo me è importante che le persone mettano al primo posto le persone capisco che non mi abbiano risposto come associazione che non abbiano dato rilievo alla domanda di un'associazione sportiva ma quello che non capisco è perché non abbiamo ancora avuto risposta alla domanda di Utonia di soffrire della piscina quando hai fatto domanda? 13 novembre nessuna risposta, nessuna chiamata niente hai provato a chiamare per sollecitare? chiamato, ho nessuna risposta quindi come dicevo molti si potrebbero scoraggiare di fronte a queste difficoltà non è il nostro caso perché continueremo a cercare il modo per accedere a questa struttura e speriamo che prima o poi ci rispondano se no provvederemo con l'igiene cercate di condividere questo video diffondetelo più che potete che sia chiaro che le amministrazioni devono essere trasparenti non ci vogliono abbiamo fatto le domande tutte le richieste al comune a tutti i ragazzi non ci vogliono perciò amma favore